Buonasera a tutti, grazie per essere qui per questa seconda puntata del ciclo Genova Città Architettura del Novecento. Sono Jacopo Baccani, vi ho intrattenuto la volta scorsa con la comunicazione sulla Genova Ottimista della Belle Epoque, approfitto per ringraziare nuovamente la Fondazione dell'Ordine degli Architetti, nonché Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura per l'ospitalità e per la partecipazione all'iniziativa. Vi ho parlato l'altra volta di un certo tipo di città la cui scomparsa vi verrà presentata oggi da Alessandro Ravera, io vi ho parlato di una città in grande espansione economica e finanziaria, una città che sostanzialmente lasciava fare, lasciava fare numerosi investitori stranieri, lasciava fare numerosi professionisti specificamente nell'ambito dell'architettura che a Genova trovavano grandi possibilità di lavoro presso una committenza prevalentemente privata, addirittura professionisti milanesi che venivano a Genova perché a Genova c'era lavoro, quindi cose oggi difficilmente immaginabili. Invece con Alessandro Ravera vedremo una mutazione genetica, vedremo una mutazione genetica che si svolge dopo una data traumatica, dopo una data traumatica che è l'ultima visita a Genova di Walter Rathenau, già cittadino illustre genovese, capitano d'industria, teorico, filosofo, mistico, ebreo ma antisionista, figura estremamente complessa che arriva a Genova nel 22 nell'ambito della conferenza economica internazionale in qualità di ministro degli esteri della neonata Repubblica tedesca e che, ironia della sorte, muore a Berlino assassinato dagli Stalhelm, mi pare che fossero, quindi comunque formazioni di parolocomando di estrema destra, in una data che a Berlino forse vuol dire poco ma a Genova suona particolare perché viene assassinato proprio il 24 giugno del 1922, c'è quindi una grande perdita, c'è una città che va incontro, come tutta l'Italia, a un grande rivolgimento politico, il 22 è un anno fatale, e c'è Alessandro Ravera che è qui con noi e ci spiegherà un po' cosa succede. Grazie. Grazie. Allora grazie a Jacopo per l'introduzione. La conferenza scorsa era iniziata appunto con questa immagine di Walter Rathenau. Rathenau è stato uno dei grandi personaggi della storia della prima metà del ventesimo secolo e si diceva la sua frequentazione con Genova. Proprio il fatto che conosceva Genova gli ha permesso di organizzare, ne parleremo poi quando parleremo un attimo della conferenza di Genova. Questa è comunque una conferenza che ha come tema l'architettura e soprattutto la città. Però vale la pena notare il fatto che mentre le grandi nazioni si incontrano a Palazzo San Giorgio, proprio il fatto di conoscere Genova e di conoscere la riviera, perché lui c'era stato, perché per crescere un figliuolo il padre che era il general manager diremmo oggi della AEG lo manda a bottega a Genova per imparare il mestiere. Lui è una delle figure importanti perché in quel momento la Repubblica di Weimar è considerata una sorta di paria. La politica finanziaria internazionale si gioca anche su il pagamento dei debiti di guerra da parte della Germania. Tutto il mondo sta guardando Genova e di fronte all'irrimovibilità delle posizioni di soprattutto di Francia e Belgio, Rathenau rivoluziona il tavolo e si accorda con l'altro paria dello scenario mondiale del momento che è l'Unione Sovietica. All'epoca diventa proprio Unione Sovietica nel dicembre del 22. Si accorda con Cicerin che è il plenipotenziario per gli esteri dell'Unione Sovietica. Il trattato viene siglato fuori, lontano da Palazzo San Giorgio, in Riviera, a Rapallo e appunto c'è anche una conoscenza tattica di quello che è il territorio da parte di Rathenau e da parte di Cicerin, perché i genitori di Cicerin si sono sposati a Genova. I genitori di Cicerin fanno parte dell'aristocrazia russa e da quando Chekhov nel Gabbiano ha detto che Genova è il luogo più bello del mondo, naturalmente tutti conoscono Genova e il fatto che i protagonisti del trattato di Rapallo, qua lo vediamo nell'immagine piccola in alto, conoscano tutte e due la città, ci dà un po', la città e i suoi dintorni, ci dà un'idea di quanto all'epoca Genova fosse centrale. Vi ho fatto vedere prima Rathenau e poi Cicerin perché il fil rouge di questo intervento sarà una sorta di duplicità che è sempre presente in Genova, sia nell'architettura antica ma anche nella città moderna. Prima di iniziare con l'escursus storico vi faccio vedere soltanto qualche testo che in pratica dà le linee guida di quelli che sono i contenuti che vedrete. Il primo è di Marco Spesso, un libro del 2012 in cui molto spesso nelle sue pagine si tratta di una sorta di descrizione emozionale, spesso ha scritto anche un libro sulla storia dell'architettura genovese, le tecniche dello spazio, in questo caso si lascia andare più a una descrizione molto emotiva e in cui molto spesso torna il mito di Giano. La città ha due volti che convivono l'uno con l'altro. Lui parte dalla città che ha Albaro e San Pierdarena, il Ponente e il Levante. Beh, in realtà vedremo come questa duplicità si trova molto spesso e soprattutto diventa forte proprio negli anni 30. Un altro libro più specificatamente di architettura molto noto quando è uscito Delirius New York ci parla di un'interpretazione dell'architettura del ventesimo secolo a partire da quello che succedeva a New York tra gli anni 10 e gli anni 20. Ora noi abbiamo un genovese che ci dà una descrizione della New York dell'epoca, che avrà molta importanza, l'abbiamo visto nella scorsa conferenza, lo rivedremo adesso, è Renzo Picasso e tra l'altro i primi due capitoli di Delirius New York sono intitolati. Il primo, La tecnologia del fantastico, ed è dedicato alle fiere, alle esposizioni, a quelli che noi chiameremo volgarmente baracconi, di cui nota quanto sono importanti per lo sviluppo proprio del pensiero dell'architettura contemporanea. L'altro capitolo è l'utopia del grattacielo. Ebbene, vedremo che il periodo di cui parleremo adesso di Genova, che va dal 15 fino agli anni 40, ha proprio l'esposizione nella Val Bisagno e poi il grattacielo di Piazza Dante come punti che ci definiscono il periodo. Sono un po' gli stessi di New York. In un certo senso, se esiste Delirius New York, dopo aver parlato della Genova ottimista, questa volta avremmo potuto parlare della Genova in un certo senso delirante. C'è anche un'altra cosa. Questo è un testo di storiografia sull'architettura del movimento moderno, soprattutto in ambito tedesco. È stato tradotto in italiano tagliando il titolo principale. Stilus Uncarn significa la buccia dello stile e il nocciolo. E anche il resto del titolo è stato tradotto come Wagner e Loss e l'evoluzione dell'architettura moderna. In realtà è Die Evolutionäre Weg, che sarebbe più la via, un'interpretazione evoluzionista. Quello che è interessante di Höxlin è che in pratica all'epoca non era così immediato comprendere che il movimento moderno non è qualcosa di monolitico. Propone una visione evolutiva e questa visione evolutiva può procedere attraverso percorsi lineari, come quello che vedete in alto sulla linea curva, ma anche attraverso parabole che sono influenzate dalle varie vicende storiche. È un libro che affronta gli anni 20-30 in ambito tedesco e vedremo come non è impossibile fare qualcosa di simile anche con l'ambiente genovese. Free New Deals di Wolfgang Schievelbusch fu un libro che fece un certo scandalo perché in pratica faceva il paragone tra tre nazioni, tutte alle prese con la grande crisi degli anni anni 20-30 e come reagiscono in modo formalmente anche molto simile. Il fatto è che queste tre nazioni sono l'Italia di Mussolini, la Germania di Hitler e gli Stati Uniti di Roosevelt. In effetti all'epoca, negli anni 30, questi punti di contatto erano molto più evidenti. Pensiamo a un pittore come Hopper che era assolutamente convinto che Roosevelt fosse un fascista. Se noi guardiamo la marinella famosissima che è adesso sul lungomare di Nervi e vediamo le analoghe architetture che l'ufficio tecnico americano faceva a San Francisco, noi vediamo che questa somiglianza indica non soltanto un'adesione a una corrente déco, ma anche un intervento preciso. Tutti gli interventi dello Stato in quel momento si contraddistinguono con questa buccia stilistica. Dicevamo prima la buccia dello stile e il nocciolo dell'architettura. È una dicotomia che molto spesso ci aiuta a capire tante disparità dell'architettura di questo periodo. Infine, André Lursa, Fab Composition et l'Ordarmonia, un libro di progettazione, di teoria della progettazione, molto noto negli anni 50, che dà una suggestione. Fa il paragone tra il profilo di Venezia, così composto e misurato, e mette questo profilo come l'esempio e l'epitome di quella che è la città antica e fa vedere lo skyline di Manhattan come modello della città moderna. Ora, se noi facciamo un passo indietro, pensiamo al 400, vediamo le due celeberrime immagini di Volgemuth dedicate a Venezia e Genova, vediamo che Venezia è rimasta praticamente uguale. E le parole che Lursa aveva per Manhattan, moli ordinati, grattacieli razionali nella loro utilizzazione, ma anche nel loro impianto, contrasto eclatante di due manifestazioni di uno stesso fatto. In pratica, anarchia e ordine si sfiorano e si interpenetrano, reagiscono l'uno con l'altro. Se noi guardiamo l'immagine di Volgemuth, vediamo che la Genova del Cinquecento aveva già tutte queste caratteristiche. È naturale che le avesse. Genova, secondo tutti gli storici dell'economia, è la culla del capitalismo moderno. Ed è interessante vedere, nelle slide che seguono, come questa città che era già moderna nel Cinquecento reagirà alla modernità del ventesimo secolo. A puro scopo di fissare dei paletti, perché molto spesso si è costretti a fare dei salti, ho intervallato le varie sezioni con una data particolare. Quindi, per l'inizio, il 5 maggio 1915, con l'inaugurazione del Monumento di Quarto. È un momento in cui la Genova ottimista si riunisce davanti alla statua di Baroni. Eugenio Baroni all'epoca è giovanissimo e in un certo senso dà il segnale di quello che sarà l'intervento italiano nella Prima Guerra Mondiale. Fino a quel momento l'Italia è un paese che preferirebbe la neutralità, ma una forte campagna, anche orchestrata dall'industria in parte genovese, fa in modo che le posizioni cambiano completamente. La manifestazione più eclatante è proprio l'inaugurazione di questo monumento. In quel momento Genova è, non è ancora la grande Genova, esiste San Pierdarena, esiste Sastriponente, ma nell'unità Genova è quella che fornisce la maggior parte dell'acciaio italiano. Il quadro che vedete è stato commissionato a Volpi dall'ansaldo e voi vedete come ho segnato la popolazione e la percentuale della popolazione impegnata nelle industrie. Tra l'altro vedete che questa è proprio una città industriale, è una città che ha la sua potenza nell'acciaio e guarda con un certo ottimismo anche a una cosa misteriosa come può essere la guerra. L'idea del genovese dell'Ottocento è che una guerra non sarà diversa dalle guerre che ci sono state fino all'epoca di Napoleone. Durante la guerra di secessione americana c'è stata una fluttuazione nei prezzi del cotone che è durata non più di un anno dopo la fine della guerra. Tutto l'Ottocento è stato un secolo molto stabile quindi non si ha nemmeno l'idea di quello che potrebbe succedere con un grande conflitto mondiale. Genova vive attorno al porto, il porto è un focolaio di tensioni ma è comunque una parte dell'anima della città. Sono alcune copertine dalla Domenica del Corriere, vediamo immagini di scioperi, il terzo in realtà sarebbe di Savona. In mezzo vediamo un'agitazione che si svolge proprio davanti al Silo Sendebic. All'epoca l'Enebic è un simbolo importante, basti pensare che nel suo libro sull'architettura moderna del 27 Gustav Adolf Platz, praticamente è la base della storiografia del movimento moderno, l'unico edificio italiano citato è appunto il Silo Sendebic. Le cose che succedono a Genova anche dal punto di vista architettonico sono ben conosciute. La rispetto che alla città è ancora racchiuso in quelli che erano i confini della città di antico regime ma c'è già tutto il quartiere della Foce, si sta sviluppando, soprattutto sta nascendo a corona intorno la circonvallazione a monte e su questa circonvallazione insistono degli impianti di trasporto pubblico che sono estremamente moderni come concezione. Anche perché è difficile trovarne dei pari, bisogna andare a Istanbul con il tunnel, bisogna andare a Valparaiso con il sistema delle funicolari, è qualche cosa di letteralmente unico che permette un'urbanizzazione in quota, cioè in quota in costa, che se vogliamo è sempre stata una delle caratteristiche della città, anche via Garibaldi ha la stessa caratteristica, però si sposa con la modernità. In pratica in quel momento funicolari e ascensori sono forse la cosa più moderna di Genova. Città ottimista, veniamo con il primo edificio, questo è Palazzo Fuselli, è in via Montevideo, viene progettato da Angelo Crippa, un giovane ingegnere di cui sentiremo ancora parlare, ma la decorazione è affidata a Enzo Bifoli, Enzo Bifoli fa i cartoni, poi Saccorotti li dipingerà effettivamente. Vediamo qui come Bifoli conosce molto bene quello che succede nel resto d'Europa, c'è una citazione quasi puntuale di un'opera di Klimt, il soggetto di questo affresco è la guerra, ma la guerra vista come un'esaltazione, vista come un successo, vista come la vedeva la propaganda dell'epoca. Unito alle linee art nouveau dell'edificio, noi abbiamo una testimonianza di quello che è l'ottimismo della città, questo ottimismo che derivava dal fatto di essere una potenza industriale. Appena un anno prima la città si era, tra virgolette, autocelebrata con una grande esposizione sulla piana del Bisagno e Bifoli era stato incaricato da Coppedè proprio di occuparsi delle decorazioni, in pratica era una specie di vice direttore. A quell'epoca le esposizioni sono un momento importante di pubblicità e di marketing. Tutte le città ci tengono a sottolineare la loro presenza. Della dicotomia di cui vi parlavo all'inizio ne abbiamo testimonianza anche in queste esposizioni. Qualche tempo prima lo stesso Coppedè, per un'esposizione di Milano, aveva realizzato il padiglione della città di San Pierdarena e ne esaltava le caratteristiche industriali. In questo caso, nel 14, nel Bisagno, Genova celebra la sua storia e abbiamo una riproduzione quasi esatta di quella che è la Torre di Galata nel quartiere genovese di Istanbul. Al di là dell'aspetto architettonico o anche della concezione fieristica, però come metteva in luce bene Colas in Delirious New York, è fondamentale vedere queste manifestazioni nella loro dimensione tecnica, cioè per la frequentazione di queste manifestazioni vengono movimentate migliaia di persone. È uno sforzo logistico non indifferente che non a caso per Coney Island a New York diventa uno degli elementi di cui gli americani si vantano. L'esposizione del 14 fa più o meno la stessa cosa e vediamo che uno dei punti principali, uno degli attrazioni principali è proprio questa monorotaia, modernissima nella concezione, che è vero non serve per la città, ma fa vedere che esiste qualche cosa che un giorno potrà essere utilizzato e fa vedere quanto è importante impegnarsi nella logistica, per quello che Renzo Picasso era stato mandato, se ne era parlato nell'intervento scorso, Renzo Picasso era stato mandato appunto a New York. Il comune di Genova sa quello che succede nel resto del mondo, lo sa perché da Genova partono le navi che sono dirette in Asia e in tutte e due le Americhe, quindi sa, vi avevo parlato prima della situazione di Valparaiso, la situazione di Valparaiso è molto particolare perché praticamente costruisce una sua circonvallazione a monte negli stessi anni in cui Genova costruisce la sua. Le motivazioni di Via Paraiso sono molto più pratiche, perché a Valparaiso è arrivato uno tsunami che ha raso al suolo il centro storico, c'è la necessità di utilizzare il porto, ma tutta la residenza si sposta in collina. Quindi nasce una lunga corniche che per collegarsi radialmente al centro storico e soprattutto al porto, utilizza una serie di funicolari che attualmente sono monumento protetto dall'UNESCO. Negli stessi anni Genova comincia a costruire le sue e considerando che se andate a Valparaiso, la prima cosa che vedete quando scendete dal pullman è un negozio che si chiama Bodega Bacigalupo, nel cimitero di Valparaiso la prima statua è una copia dell'Angelo Neto, la presenza, gli emigranti italiani sono detti i Baciccia. Questo dà un'idea di quanto Genova fosse presente. Allo stesso modo a New York c'è l'IRT che è un sistema di tunnel sotterraneo per collegare i vari quartieri che adesso compongono la grande New York. Non è un caso che negli stessi anni venga proposto per Genova dall'ingegnere Stefano Cattaneo della famiglia Nobile un progetto di metropolitana il cui percorso, ferrovia sotterranea, il cui percorso si snoda in modo da interfacciarsi con tutti gli ascensori e le funicolari. È un modo già chiaro che Genova può essere attraversata soltanto in modo intermodale. E più di tutti chi si occupa di queste cose è appunto Renzo Picasso. Questa parte l'abbiamo già vista, faccio soltanto un accenno, Renzo Picasso è veramente onnivoro nelle sue curiosità. In questo caso noi vediamo il suo progetto, siamo nel 15, nell'11 ancora, e praticamente è un anno dopo che Eugène Nard è uno dei funzionari della Municipalità di Parigi. Nome poco noto oggi, però è in pratica l'inventore di uno degli oggetti fondamentali del traffico moderno, cioè l'oratotoria. In pratica i suoi studi sono stati la base dello sviluppo del controllo del traffico e le sue proposte sullo sviluppo e l'organizzazione del traffico in sezione per Parigi sono recepite immediatamente all'anno successivo proprio da Picasso. Allo stesso modo, prima si parlava di New York, nel 13 va a New York e dopo aver visto la Grand Central Station con i treni che arrivano sotto Manhattan propone la stessa cosa per Genova. Non è una follia, lui tecnicamente sa di cosa sta parlando, è una proposta e lo spirito con cui lo fa è lo stesso con cui è stata fatta la Telfer, è un modo di guardare avanti e non è qualche cosa di campato in aria, il suo linguaggio, la buccia dello stile, in questo caso è il Beaux-Arts che in quel momento furoreggia Manhattan. Viene la guerra e la situazione cambia, è significativo, un progetto che abbiamo già visto è la Torre della Pace, viene proposta anche come Torre della Vittoria ma il nome che gli da Picasso è proprio Torre della Pace, la guerra cambia completamente le carte in tavola e dopo l'ottimismo della Belle Epoque svanisce completamente. Il simbolo di tutto questo è proprio nella conferenza internazionale del 1922, vedete questa vignetta che è apparsa su un giornale americano dell'epoca in cui un mondo preoccupato guarda verso Genova. C'è addirittura un commento che appare sulla stampa inglese in quel periodo in cui si dice che il fallimento della conferenza di Genova e si dice se l'umanità aveva costruito speranzosa un palazzo della pace all'Aia, a Genova dovrebbe costruire un monumento alla Nemesi. Che cosa è successo? Non c'è stato nessun accordo, non c'è stato nessun accordo tra le varie nazioni, è una conferenza tra l'altro viene scelto Genova anche perché è una conferenza di carattere estremamente tecnico e finanziario, non a caso partecipa anche Maynard Keynes. L'idea è che si riesca a trovare la quadra tra esigenze molto diverse e alla fine chi scompiglia il gioco sono Russia e Germania, le due nazioni paria, che si mettono d'accordo per conto loro. è divertente la vignetta americana che fa riferimento al baseball in cui a un certo punto la Russia sta per tirare, la Germania sta per ricevere e il battitore francese protesta. Riproduce in maniera veloce quello che in realtà era successo. Il 22 è anche l'anno in cui succedono molte cose, è l'anno in cui l'Italia è attraversata da continue barricate e scontri tra le destre e le sinistre. Nello stesso anno Rathenau viene assassinato, nello stesso anno Lenin ha un ictus e quindi in pratica tanto Rathenau quanto Cicerin, Cicerin era in quota Lenin diremmo oggi e Cicerin viene esautorato, il suo posto viene preso da Litvinov, quindi l'accordo di Rapallo si tramuta completamente, quello che c'era un accordo commerciale diventerà poi l'accordo Molotov-Ribbentrop che è basato su idee e priorità molto diverse. In Italia c'è poi la marcia su Roma. A Genova, al di là di queste catastrofi mondiali, c'è anche di peggio. Quello che vedete è il grafico dell'andamento delle azioni dell'ansaldo tra il 18 e il 22. Nel 22 le azioni di ansaldo sono praticamente azzerate. Cosa è successo? Come c'è stato un problema di reinserimento dei reduci nella società, le grandi industrie genovesi hanno avuto la stessa cosa. Le grandi industrie genovesi producono cannoni, producono acciaio. Adesso non c'è bisogno di tutto questo acciaio. Le industrie sono cresciute a dismisura. L'ansaldo ha provato una serie di scalate finanziarie per poter dare un adeguato sostegno finanziario e liquido a quelli che sono le sue esposizioni e i suoi stabilimenti. Guardate il manifesto quanto esalta il fatto che il capitale è di 500 milioni depositati. Nel 22 gli ispettori della Banca d'Italia scoprono che in realtà si tratta di un gioco di scatole cinesi e i veri sono meno della metà. Le azioni crollano e nel crollo dell'ansaldo, dato che l'ansaldo era una holding, vengono giù industrie automobilistiche, vengono giù banche. È letteralmente un vecchio capitalismo genovese che sparisce in un attimo. L'ilva viene salvata, ma si capisce che quello che costituiva l'ottimismo della città ora non c'è più. Il porto, ho messo anche gli anni successivi, però il porto del 22 non se la sta passando bene perché dopo il 16 naturalmente i traffici sono crollati. Quindi tutti i motivi di ottimismo che c'erano prima non ci sono. In una città che comunque nel grafico a torta vedete quanti erano i marinai degli equipaggi iscritti al registro di Genova rispetto al totale della nazione italiana. Quindi Genova è per certe cose estremamente sensibile. Quando Brodel parla di Genova come sismografo ultrasensibile di quello che succede nel mondo, continua ad esserlo anche nel 22. E nel 22 l'ottimismo è praticamente svanito. Poche cose lo mostrano come le statue di Staglieno. In questo caso ci sono cinque anni di distanza tra la prima e la seconda. La prima tra l'altro è di un allievo di Santo Varni. Quindi si guarda l'aldilà con una certa fiducia. La seconda è il monumento alla moglie di Orlando Grosso ed è di Baroni, lo stesso scultore che ha scolpito il monumento di quarto. E tra queste due si vede proprio il passaggio di una Genova che diventa pessimista. Diventa pessimista per le motivazioni che abbiamo visto prima. Da un punto di vista architettonico inizialmente non cambia troppo. Anche se tutte queste ville, sono ville di Coppedè, sono in pratica un po' meno sovraccariche nella decorazione rispetto a quello a cui Coppedè ci aveva abituato. C'è un interessante segnale. La villa Cerruti, la vedete in alto, è costruita per un capitano di industria che in quel momento tra l'inizio e la fine, a cavallo della prima guerra mondiale, sta cercando di fare investimenti immobiliari in tutta Italia. Interviene a Messina dopo il terremoto e gli edifici Coppedè fatti a Messina sono proprio voluti da Cerruti come committente. In pratica si cerca ancora di dare uno stile unitario e questo stile unitario è l'eclettismo della belle époque. Si prosegue a farlo anche negli anni venti. Questo perché questo stile in un certo senso ha una dose di nostalgia, fa ricordare quando le cose erano ancora orientate, si sperava verso una crescita. L'edificio in basso a San Fruttuoso, sempre degli anni venti, riprende l'eclettismo di Coppedè ma non per una villa ultra esclusiva. Ma siamo nel quartiere più densamente popolato della città, si tratta di un edificio residenziale di edilizia, potremmo quasi dire speculativa, cioè un edificio di appartamenti. In pratica si vuole cercare di dare a tutta la città questo stile e come dicevo è ancora una testimonianza di unitarietà. Lo stesso Coppedè ci aveva approvato qualche anno prima, degli anni sempre della prima guerra mondiale, con quello che è il quartiere Coppedè a Roma, finanziato da investitori genovesi e in pratica è il tentativo di tradurre in uno stile quello che era lo spirito di un'epoca. Questo stile dopo la prima guerra mondiale continua ad essere portato avanti, magari un po' stancamente, ma l'idea è proprio quella di cercare di riportare in auge quelli che erano i buoni vecchi giorni. Da parte sua, il comune, anche perché nei momenti di crisi dell'industria ci si rifugia sempre nell'edilizia e vara una serie di concorsi per quello che era lo spazio di espansione per eccellenza, ovvero il collegamento tra il nuovo quartiere della Foce e l'area del centro moderno attorno a Via 20 Settembre. Vengono fatti due concorsi, uno per un arco monumentale da dedicare ai caduti della grande guerra e l'altro, lo vedete in alto, sono i tre progetti di concorso che sono risultati primo, secondo e terzo e l'altro per la spianata del Visagno. Lo vince un architetto già noto, Piacentini, che comincerà un rapporto preferenziale con Genova al punto che quando l'anno successivo il Corriere Mercantile, dato che a Genova come sempre quando viene fatto un concorso immediatamente si leva una qualche voce contraria, in questo caso il Corriere Mercantile indice un controconcorso per festeggiare l'anniversario della sua fondazione e Piacentini partecipa anche a questo secondo concorso. Tra l'altro questo è uno degli aspetti di questa dicotomia cittadina che viene sempre fuori. Il linguaggio potrebbe somigliare a quello di Coppedè ma sta tendendo molto di più a un certo classicismo. Il primo che vedete, che in realtà è il terzo classificato di Rigotti, oggi noi sono nomi che abbiamo dimenticato, ma Rigotti è l'architetto che praticamente ha costruito tutto il centro di Bangkok. Il nome sembra esotico, però il fatto è che all'epoca gli italiani girano il mondo, lo fanno anche adesso, e per una città che ha ancora gli orizzonti molto aperti, è naturale che un concorso per Genova sia, quest'architetto di origine torinese, però sia di interesse per persone che frequentano il mondo. Naturalmente ai due concorsi partecipa sia quello del Comune sia quello del Corriere Mercantile, partecipa anche Renzo Picasso. Con edifici, avevamo visto nello scorso intervento la sua predilezione per il grattacielo. Con edifici, in un caso viene chiamato edificio di avviamento al grattacielo. Per Picasso si tratta proprio di una questione tecnica. Vedete che adotta come linguaggio formale un ordine gigante che poi negli stessi anni ha finalmente modo di realizzare. dietro la funicolare Sant'Anna esiste l'unico edificio che ha realizzato, chiamato il Palazzo degli Armatori, perché sono tanti gli armatori che scelgono i suoi appartamenti per abitarli. Vediamo alcune caratteristiche. Non abbandona lo stile bozar new yorkese, ma se guardate l'ingresso, l'ingresso sembra veramente quello delle stazioni della metropolitana. È un portale, ma risolve il portale invece che in maniera monumentale, in maniera moderna, insistentemente moderna perché è sorretto da catene. Naturalmente da buon genovese, subito sopra la porta, c'è un'immagine della Madonna della Guardia. Perché in ogni caso la tradizione deve mantenersi. Quello in basso è il progetto che presenta per il concorso del Corriere Mercantile una fila di grattacieli che costituisce una sorta di fronte urbano. Può sembrare anche in questo caso una follia, però se noi la guardiamo è esattamente quello che sta succedendo dalle altre parti. Negli anni dieci succedeva New York, quello è il Woolworth di Cass Gilbert, quello sotto è l'edificio municipale di McKinney & White, ma in quel momento in Sud America architetti italiani, stiamo parlando di palanti, costruiscono grattacieli che in pratica finiscono per dare il là allo skyline tanto di Buenos Aires quanto di Montevideo. Sono edifici che diventano famosissimi, tra l'altro il Palazzo Barolo, sono tutti costruiti per imprenditori di origine italiana, uno si chiama Palazzo Barolo, l'altro si chiama Palazzo Salvo, sono tutti esempi di cultura italiana e in un certo senso costituiscono il contraltare sudamericano di quello che sta succedendo in Nord America. Quindi in realtà l'idea di Picasso è semplicemente quella di dire ricolleghiamo, questa è una città che comunque è una città con una forte industria, utilizziamo l'edilizia come volano e diamo una veste che possa essere alla pari con quella del resto del mondo. Tra l'altro c'è una cosa, l'edificio, a destra ne vedete qualche particolare, si trova esattamente a fianco al grande palazzo degli Odero, costruita un palazzo, una casa d'appartamenti però molto lussuosa, che la vedete nelle foto, è nata proprio perché lì a fianco passa la funicolare. In realtà non avrebbe senso quell'edificio se non ci fosse questa linea di trasporto pubblico che è la funicolare di Sant'Anna esattamente a fianco, con uno stile ingegnosissimo. Tra l'altro Crotta era stato anche l'ingegnere che aveva lavorato a Palazzo San Giorgio, il grande scalone che è moderno e insiste su murature antiche, è stato lui a calcolarlo. Questi due edifici con il loro linguaggio eclettico in realtà sono modernissimi perché ragionano sul fatto che un edificio densamente abitato può essere fruito soltanto se c'è un'adeguata rete di trasporto pubblico che lo sostiene. In pratica un grattacielo non è una pila di pietre, un grattacielo è la gente che lo abita e per spostare questa gente sono necessarie infrastrutture. Gli americani lo sanno bene e infatti questo edificio, la sezione che vedete è tratta da un libro di Picasso che si chiama Il Grattacielo e i Suoi Alleati, ma questo Hudson Terminal che nasce proprio come terminal ferroviario diventa famoso in tutta New York proprio per la molteplicità dei suoi livelli e come fa vedere questa cartolina per il fatto di essere un nodo di intermodalità e è un po' a questo che Picasso ha in mente, non alle forme Bosar, non ai Bovindo, ha in mente un tipo di città che si muove in questo modo. Anche il resto della città comunque è in linea, lì vedete di nuovo Montevideo, in via Montevideo praticamente la maggior parte dei palazzi è progettata, le strutture sono progettate anche lì da un giovane ingegnere che viene dal Veneto, si chiama Angelo Invernizzi, avrà poi molto a che fare con la cultura cittadina, è interessante il fatto che per via Montevideo prevede questo garage elicoidale in cemento armato, è uno dei primi che vengono realizzati in Italia in questo sistema proprio perché ha idea che ciò che è la natura dell'edificio è prima di tutto lo spostamento, i flussi che questo edificio genera. È un modo di concepire la città estremamente moderno nonostante quella che chiamavamo la buccia dello stile sia ancora quella dell'eclettismo del secolo precedente. Tra l'altro via Montevideo, un tempo si chiamava via Mondo Nuovo, si trova a poca distanza, lì vedete l'inaugurazione del monumento a Belgrano che è stata negli anni venti, non è un caso che quelle vie si chiamano Montevideo e Buenos Aires e a fianco ci siano tutte le vie che hanno il nome delle grandi colonie genovesi perché è ancora una città che si ricorda di essere stato un nodo di un mondo in espansione e lo è ancora negli anni venti. Piazza de Ferrari finalmente con l'edificio di gamba prende un suo aspetto definitivo, viene riordinato rispetto a quello che era l'aspetto medievale. Noi oggi forse abbiamo nostalgia di quella che era la vecchia Genova e comprensibilmente, ma bisogna entrare nella mentalità degli anni venti. Per gli anni venti il fatto che quello che vedete sotto che era Piazza San Domenico con il disordinato a fluire dei calesse, il fatto che Piazza de Ferrari possa diventare la rotatoria per i tram è considerato un momento di grande progresso. Non è un caso che uno degli edifici più significativi, una delle operazioni più significative di questo periodo è data dalle due gallerie che permettono il passaggio dalla Zecca fino a Piazza Portello. Sono a Piazza Portello e poi comunale e hanno una valenza formale architettonica particolarmente ricercata. Su Piazza Corvetto, guardate l'immagine in basso, quella col tram, Eugenio Baroni viene chiamato a preparare le statue dell'Embriaco e di Andrea Doria, gli eroi della città, e sono posizionati in quel modo proprio perché dietro si possa vedere Mazzini. In un certo senso c'è un orgoglio municipale che viene sottolineato in questa galleria che non è cosa da poco, soprattutto in un momento in cui si tende a esaltare più lo Stato. Ma la cosa veramente interessante è l'edificio da largo Zecca in cui la galleria letteralmente sostiene un palazzo. Da un punto di vista formale i modelli sono presi dall'architettura romana di una decina di anni prima. Vediamo via del trittone. Però c'è un elemento del Coppedè, questo è il quartiere Coppedè e famosissimo del quartiere Coppedè, il grande archivolto, sopra il quale ci sono delle stanze. In questo caso a largo Zecca si fa di più. C'è un intero palazzo. Se guardiamo via del tritone, in via del tritone a Roma l'idea che la galleria sostenesse un palazzo intero non c'era. Qui invece viene addirittura messo un edificio che è coronato come Montecitorio. All'interno sono edifici scanditi in modo ministeriale, cioè sono corridoi, stanze, corridoi e stanze. Ma l'esterno è particolarmente monumentale e tutto questo ci riporta ancora una volta a New York. Perché esattamente in quegli anni progetti di quel genere, lo vedete nello schizzo in alto, in bianco e nero di Hugh Ferris, progetti di quel genere vengono veramente proposti. Dato che le strade devono passare e dato che si immagina che la natura dell'edificio alto è quello di essere in connessione con le infrastrutture, è naturale pensare a un edificio che sta su una galleria. Di questo tipo di struttura la cosa più ironica ce la dà Piero Portaluppi, architetto milanese molto spiritoso, se guardate il suo loghetto con la casetta col camino che sembra la caricatura di un omino col braccio levato che fa il saluto romano, Piero Portaluppi fa questo grande acquerello di un grattacielo new yorkese, si riconosce al Flatiron, gli altri grattacieli, ma praticamente è un'immagine abbastanza realistica e si leva una nuvola di fumo, quasi a far pensare a un incendio. Le lettere S-K-N-E, lette in italiano significano scappane, non è una celebrazione del grattacielo, in realtà è una fortissima critica. Il grattacielo in effetti avrà una sua fortuna limitata in Italia e vedremo poi perché. Ci sarà un dibattito molto acceso e è su questo che poi si inserisce il discorso su Piazza Dante. Nel 1926 nasce la grande Genova, vi ho parlato di tutte le crisi che ha avuto economicamente Genova, beh, poche cose spiegano la perdita di centralità che ha Genova quanto quest'articolo del secolo XIX in cui viene annunciata la creazione della grande Genova. L'articolo inizia con le parole, ci telefonano da Roma. Letteralmente la sede delle decisioni si è completamente spostata. Bisogna accettare delle decisioni esterne. La grande Genova è stata caldeggiata dai genovesi. I genovesi, fin da quando è nata la grande New York, immaginano una grande città. Grande città significa tanti abitanti, tanti abitanti significa una capacità di spesa e di indebitamento quasi illimitata, perché gli abitanti per l'amministratore sono prima di tutto contribuenti. Quindi una grande città significa poter pensare a grandi progetti. A Genova questo piace, ma la decisione deve comunque arrivare da Roma. E tra l'altro si vede tutti i nomi in ordine alfabetico dei comuni annessi. Questo è stato fatto perché in realtà dei comuni annessi molti non erano così soddisfatti dell'unione con Genova. Soprattutto San Pier d'Arena che aveva una sua natura e aveva una sua lunga tradizione. Ma tutto questo è passato in carriera perché arriva la telefonata da Roma. La popolazione cambia, quasi raddoppia, è il discorso che vi facevo prima sulle capacità economiche di un comune con molti abitanti. Ma soprattutto aumenta di smisura la superficie. Quindi improvvisamente Genova si trova ad essere un'area enorme di cui concretamente abitabili sono in realtà poche porzioni del suo terreno e da lì cominciano le difficoltà che si porteranno avanti per tutto il ventesimo secolo. Vediamo un po' i progetti di questo periodo. Uno è di Crosa di Vergani, si tratta dello Yacht Club, nel porticiolo Duca degli Abruzzi. E' particolarmente affascinante questo disegno di progetto in cui vedete come Crosa praticamente indifferentemente valuta una possibilità che sembra uscita da una villa medicea, che sarà poi quella scelta, estremamente sobria e un'altra, le cui linee rimandano quasi alla scuola di Amsterdam. Quello a fianco è uno schizzo di De Klerk che in pratica cerca di coniugare la stessa idea. E' chiaro che Crosa non conosceva quello schizzo, è soltanto per dare un'idea di che tipo di stile volesse adottare. Beh, questo schizzo, questa idea progettuale, dà proprio l'idea di quello che si diceva all'inizio con Stilhülsen und Kern. Il nocciolo dell'architettura è la buccia dello stile che va adeguata a seconda di quelle che sono le richieste o le condizioni. Lo stesso Crosa infatti poi si trova a dover progettare qualche cosa di molto importante. L'IVA, vi ho detto, a differenza dell'ansaldo è stata salvata. Viene costruita una grande sede in Carignano e vedete come nella realizzazione di questo edificio cubico ritornano tanto le memorie dell'architettura tradizionale genovese quanto le suggestioni del déco che in quel momento sta andando per la maggiore nell'architettura mondiale. Va ricordato che Crosa fa parte del gruppo dei Liguri che viene mandato a Parigi all'esposizione che praticamente decreta la nascita dell'art déco. quindi è qualche cosa che lui conosce bene. Se andiamo a vedere alcuni dettagli vediamo anche che ad esempio nelle opere in metallo che celebrano il lavoro nella ricchezza insistita perché praticamente quello che colpisce dell'edificio dell'ILVA è che è proprio un edificio prezioso e l'eco di quello che succede o succederà nell'America rusveltiana è abbastanza evidente il dettaglio dell'Aquila è preso dal Rockefeller Center e gli altri invece sono l'Alcoa è la principale compagnia americana di alluminio e carbone vedete come si tratta di declinare in un linguaggio Art Nouveau quelli che sono i temi del lavoro anche in questo caso la buccia dello stile è importante ed è qualche cosa che è connessa al nocciolo dell'architettura ma non per questo non deve esistere il tema dell'architettura moderna per tanti sarà quello di togliere questa buccia di nuovo noi abbiamo, vediamo i progetti questa è l'opera nazionale Balilla, oggi si chiama Teatro della Gioventù in pratica l'edificio anche in questo caso riprende quella che è l'architettura genovese del XVI secolo ma è solo una delle opzioni messe in gioco Robaldo Morozzo della Rocca fa qualche cosa di simile vediamo due alternative studia la facciata per questa che è la centrale del latte la storia di questa centrale del latte è sintomatica di quella che è la situazione della città all'inizio è uno stabilimento dell'ansaldo viene abbandonato lo occupa il settore pubblico il settore pubblico mette un servizio pubblico e assegna all'architetto la rielaborazione e il linguaggio deve dare l'idea della dignità di questo pubblico che si affaccia in una città in cui generalmente tutto era deciso dall'evergettismo dei privati l'ufficio tecnico comunale da parte sua va anche molto più in là negli stessi anni vengono progettati siamo nel momento del controllo delle masse da parte del regime nascono case littorie un po' dappertutto la forma della casa littoria di San Fruttuoso ricorda in maniera veramente puntuale quello che è il municipio di Hilversum che è uno degli edifici famosi dell'architettura olandese del periodo a fianco è una pagina di un articolo di Mario Labò che all'epoca era uno dei commentatori più ascoltati sull'architettura che proprio parla di Dudok quindi Dudok è conosciuto a Genova e se noi abbiamo da una parte questa architettura così moderna streamline si direbbe sotto abbiamo la caserma dei pompieri di Bolzaneto la caserma dei pompieri di Bolzaneto invece è di una neoclassicità perfetta e rigorosa tanto da ricordare quasi Schickel le anime sono tante ma perché sempre dicevo due cose una certa dicotomia e la dialettica tra la buccia dello stile e il nocciolo architettonico nel 1930-24 marzo Marconi davanti allo Yacht Club quello che abbiamo visto prima manda un segnale che accende le luci nel municipio di Sydney è una delle cose importanti viene a Genova ancora una volta a Genova viene sui giornali di tutto il mondo è un momento in cui Genova è importante internazionalmente ma dal punto di vista economico le cose stanno peggiorando l'Italia ha scelto la battaglia del grano la battaglia del grano è la produzione autarchica per il porto di Genova che era un punto di transito delle granaglie significa una contrazione micidiale la vedete nel grafico in basso in alto è l'aumento continuo dei dazi doganali allo stesso modo qualche anno dopo verrà decisa l'autarchia l'Italia farà da sé vedete come variano le importazioni e le esportazioni che letteralmente perdono sempre più volume tutto questo per una città che viveva di portualità è una contrazione delle possibilità di lavoro e delle possibilità economiche veramente micidiale per cercare di risollevare il tutto allora si comincia a pensare a una palingenesi una trasformazione completa della città viene fatto il concorso per la risistemazione delle aree centrali questo è il progetto vincitore molto famoso di Viale e Zappa e se vedete il secondo è Piazza Dante c'è già l'idea di quella che sarà Madre di Dio il ponte che vedete è il ponte di Sarzano e il progetto che qui è localizzato in Piazza San Vingenzo nelle forme ricorda già quella che sarà Piazza della Vittoria siamo all'inizio degli anni 30 ma le linee guida di quella che sarà lo sviluppo della città negli decenni successivi sono state segnate qui vediamo due progetti in realtà fanno parte dello stesso gruppo sono stati presentati dallo stesso gruppo e vediamo come gli architetti ancora una volta sono in grado di declinare stili completamente diversi che possono essere intercambiabili il nocciolo della questione resta lo stesso ma lo stile è invece differente a seconda del gusto del committente questo è il progetto che verrà maggiormente discusso Genuense Serga Mercator è di Daneri la cosa che viene a far discutere di più è proprio la presenza di questo grattacielo il grattacielo ve ne ho parlato prima è importante per i new yorkesi è importante anche per i genovesi perché in una città che vi dicevo così povera di spazio che improvvisamente si trova ad essere lunga 30 km è importante poter sfruttare le aree centrali al massimo e il modo migliore è l'edificio alto quindi questo grattacielo letteralmente ha in mente quello che succede a new york ha in mente anche quello che succede in sud america è successo qualche cosa nel frattempo l'architetto del palazio salvo e del palazio barolo ha proposto a mussolini un grande grattacielo l'eternale littorio da posizionare al centro di roma mussolini inizialmente e anche tanti sono affascinati dall'idea che l'italia abbia l'edificio più alto del mondo però si scatena una discussione questa discussione è basata su riflessioni molto tecniche interviene addirittura Cass Gilbert che era l'architetto del Woolworth di cui abbiamo parlato prima scrive a mussolini e dice che roma in realtà è diversa da new york new york ha questi grandi assi di attraversamento vive in una selva di grattacieli ma le linee di roma sono differenti e inoltre roma le strade del centro di roma non hanno la portata necessaria per poter riempire quella mole quando viene presentato questo progetto di grattacielo Daneri ha ben chiaro che il problema non è soltanto l'edificio alto ma è anche come farci arrivare la gente e con lui tutti quelli dell'ufficio tecnico e sarà in nuce la soluzione che verrà adottata poi per Piazza Dante in effetti l'anno successivo il concorso diventa un vero e proprio piano regolatore e sarà quello che reggerà tutte le trasformazioni successive Genova fa anche un altro piano regolatore lo fa per il Levante è stata annessa tutta la parte da Nervi c'è un progetto con Daneri, Ferrari, Morozzo della Rocca Vietti, Viale e Zappa Viale e Zappa sono quelli che avevamo visto prima nel progetto Ianoa per la urbanizzazione delle aree a Levante questo è il concorso che vince e se guardate in basso le tipologie vedete come il doversi confrontare con la costruzione in costa usando le linee che derivano dall'architettura streamlined che in quel momento va di moda ne nasce qualcosa di molto interessante e di molto moderno che arriva a occhieggiare quello che in quel momento Le Corbusier sta progettando per Algeri è un progetto interessante vince non a caso anche perché questa è solo una citazione anche Picasso non appena viene sistemato l'annessione propone subito delle infrastrutture di collegamento per quelli che sono e tra l'altro elettrificate in quel momento l'Italia non è che ha tante fonti fossili quindi si cerca di ottimizzare il più possibile l'elettricità sono linee per poter urbanizzare la parte a monte ma vi dicevo prima vince anche perché gli altri progetti che vengono consegnati sono tutti esercitazioni sul tema della città giardino esercitazioni esclusivamente formali mentre il primo progetto è già una zonizzazione di carattere moderno viene finalmente terminato l'arco dei caduti ma come vedete all'epoca Piazza della Vittoria è una tabula rasa la dicotomia l'avevamo vista prima nell'ufficio tecnico comunale tra la casa del Littorio e dall'altra parte la caserma dei pompieri la dicotomia tra gli stili esplode letteralmente nei due moli uno a fianco all'altro divisi da pochi anni il ponte dei Mille e la stazione Andrea Doria in realtà sono declinazioni di uno stesso edificio il cui linguaggio è completamente diverso e se vedete le due cose collidono proprio perché sono una a fianco all'altra i genovesi sono abituati a guardare cose che sono molto diverse tra di loro e accettarle sintetizzarle senza porsi nessun problema se guardiamo in effetti tutte e due qui abbiamo in parallelo la sala della dogana determinati dettagli ciascuno vuole essere una corretta declinazione di quello che ha uno stile soprattutto è interessante il modo in cui Vietti riprende la scala a chioccia Vietti viene progettato dall'ufficio tecnico del porto ma Vietti in quanto rappresentante della soprintendenza ha l'ultima parola e vedete come la scala a chioccia la ritorna molto spesso nei progetti modernisti anche fa il design di tutte le di tutto l'arredamento e si rivela molto aggiornato su quelli che sono i gusti europei ma oltre a quelli esiste anche una corrente classicista questi sono gli edifici di Canella sopra abbiamo il palazzo della finanza la scuola Diaz l'altro gli altri sono quelli che chiudono piazza della vittoria Fineschi e di nuovo Canella la questura e il liceo ora questi edifici classici sono degli stessi anni di questi che invece sono estremamente di definiremmo razionalisti qualunque cosa voglia significare il termine razionalista in realtà lo stesso Fineschi se guardiamo a poco tempo di distanza fa due progetti in uno riprende gli stilemi chiamiamoli moderni nell'altro dato che si trova a lavorare a fianco dell'arco di Piacentini riprende il linguaggio di quella che è la casa del mutilato di Piacentini allo stesso modo di questo edificio di cui è dell'ufficio tecnico comunale la firma sarebbe di Braccialini sono stati proposti tanti nomi è un edificio in cui si sintetizzano un'infinità di eco se vedete c'è Mendelssohn c'è soprattutto i progetti di Del Debbio per Roma questa immagine è qualche cosa di modernissimo ed è interessante perché collide completamente con il linguaggio classico che avevamo visto prima allo stesso modo l'interno combina quella che è il massimo del folklore lo chiameremmo con una modernità generale pari de contri le piscine di Albaro il problema di questo tipo di edifici vedete a fianco una è una stazione del bus americana la cosa buffa è che questo tipo di architettura in America è proprio l'architettura caratteristica delle stazioni dei bus è una sorta di architettura immediatamente riconoscibile ma viene presa anche dalle colonie italiane insomma è uno stile che viene preso proprio in quanto vuole comunicare una determinata adesione Robaldo Morezzo della Rocca fa degli esercizi un po' più personali lo vediamo di nuovo con la Marinella la Marinella messa a confronto con il progetto che avevamo visto dell'urbanizzazione per il Levante soprattutto il lungomare progettato per Ostia da Del Debbio praticamente negli stessi anni ci sono anche degli edifici ecclesiastici religiosi il più interessante è forse quello di Crippa per il Gaslini Crippa vi ricordate aveva progettato quella casa quella da cui siamo iniziati dove il disegno preparatorio per la fresca era stato fatto da Bifoli beh noi vediamo che tramite Bifoli questo edificio rispecchia quelle che sono le ricerche dello stile Secession che è stato così importante per l'Europa centrale ma contemporaneamente negli stessi anni vengono fatti dallo stesso architetto che è Luigi Ferrari ha collaborato con Daneri a quel progetto per Nervi che abbiamo visto prima e vediamo come in un caso sembra riprendere la stessa linea che è poi quella dei monumenti liberti di Staglieno che troviamo nella chiesa di Crippa nell'altra declina un linguaggio neogotico anzi neofiorentino altri edifici sacri Genova è il luogo in cui la città in Italia in cui viene costruita una sinagoga vedete come la sinagoga riprende le linee di quella che era la chiesa progettata da Dufour per la foce diversi anni prima qui ritroviamo in Vernizi in Vernizi case d'abitazione in questo caso sono state pubblicate da Piacentini se guardate la vignetta la vignetta è una vignetta americana ci dimostra come questo linguaggio era all'epoca estremamente internazionale ed era collegato alla modernità e al nuovo modo di abitare San Pierdarena San Pierdarena come Nervi adesso fa parte della città guardate questi due edifici uno è il palazzo Lancia l'altro è la casa del fascio la casa del fascio è stata pensata e progettata dal nipote del progettista del teatro Modena quindi in un certo senso è quasi una cosa di famiglia si trova molto vicino al Modena entrambi questi edifici sono pensati per il traffico veloce il palazzo Lancia è fatto per essere visto dall'automobile o dal tram la torre della casa del fascio è fatta per essere vista dalla ferrovia a San Pierdarena succede quello che a Genova non è successo cioè il centro di San Pierdarena viene letteralmente sfasciato dalle infrastrutture di trasporto e in un certo senso l'architettura cerca di adeguarsi i problemi di questa situazione sono ancora quelli dell'urbanistica su San Pierdarena del giorno d'oggi 1936 è inaugurata la fontana di Piazza De Ferrari con gran concorso di pubblico sono anche gli anni in cui definitivamente a Genova si afferma l'importanza dell'IRI quindi la presenza dello Stato noi guardiamo Piazza De Ferrari immaginando le varie differenze stilistiche tra l'edificio di Cesare Gamba il palazzo d'angolo con via Petrarca per un genovese degli anni 20-30 probabilmente la cosa che vedeva era che la società di navigazioni era stata assorbita da l'IRI il credito italiano era stato assorbito da l'IRI nella borsa l'IRI aveva delle partecipazioni per la borsa italiana erano attorno al 25% dell'intero capitale per la borsa genovese probabilmente erano molte di più in questo senso la fontana che è stata fusa dai cantieri del Tirreno che sono gli unici rimasti privati non statali ha un significato molto particolare in realtà è un certo tipo di capitalismo che cerca di sopravvivere ma quello che oramai esiste intorno è l'industria di Stato è il momento delle grandi opere le grandi opere sono state cominciate anni prima si procede alla copertura del Bisagno i moli che cambiano la natura del litorale di San Pier d'Arena arriva la camionale e non è un caso che nel 38 quando arriva Mussolini in pratica tutte queste sono le cose che gli vengono fatte vedere l'articolo che leggete è di Enrico Mattei è solo un'omonimia all'epoca era chiamato il principe dei cosiddetti pastoni cioè articoli dove c'era di tutto un po' se guardate la parte finale dell'articolo in cui dice quello che una volta fu il letto del Bisagno è oggi un fiorito ricamo di Auiole il fatto è che si celebra la potenza della modernità che ha ridotto la forza del fiume l'ha ridotta la contenuta e l'ha addirittura messa in un ricamo e in effetti l'aspetto diventa qualche cosa di piacevole considerando in una città caratterizzata dagli spazi chiusi come Genova anche in piazza della Vittoria così stereometricamente progettata in realtà è presente una fortissima dicotomia l'edificio intestata al primo ad essere realizzato il palazzo della Nafta che è praticamente il braccio italiano della Shell ha delle caratteristiche stilistiche che sono molto diverse da quelle del palazzo di Piacentini che invece si trova all'altro fianco il palazzo di Piacentini è anche il palazzo dell'Inps quindi da una parte abbiamo una multinazionale e dall'altra abbiamo un'istituzione statale queste due realtà convivono ma stilisticamente sono molto diverse una dall'altra l'occhio oramai si è abituato ed è curioso che se guardiamo in basso quello in basso è il primo progetto di Piacentini per la piazza della Vittoria e alla fine il progetto realizzato da Ginatte e Fossati finisce per essere più simile al progetto di Piacentini originali che il progetto di Piacentini stesso la planivolumetria generale anche in questo caso è fissata dall'ufficio tecnico comunale e alla fine le diverse costruzioni sono unificate da questo porticato continuo che è molto importante perché finisce per dare la regolazione a quella che è un insieme che potrebbe diventare eterogeneo d'altra parte questa cosa è evidente se guardiamo la restituzione fotografica del fronte degli edifici è una specie di visione irreale che comunque ci dice quanto siano diversi i vari edifici Piacentini era già stato autore della piazza della vittoria a Brescia e come vedete la piazza della vittoria a Brescia accetta non solo ricerca questa differenza e queste diversità quindi in realtà sono cose che Piacentini vuole poco distante nel 36 viene fatto il villaggio balneare e se guardate la grande fontana quanto è debitrice di quelle che sono le decorazioni ardeco-nuyorkesi del periodo è interessante perché questa parte via Guglielmo Marconi nelle idee originali doveva essere la Copacabana della città Copacabana negli anni 30 è quello c'è già il marciapiede che verrà poi ripreso da Burle Marx con il mosaico ma in pratica non è diverso da quello che è la foce gli edifici anche in questo caso noi vediamo il grande intervento di Piazza Rossetti ma tutti gli edifici intorno hanno una natura propria che è particolarmente spiccata cioè la casa dei pescatori i vietti tra l'altro sembra vernacolare è detta edificio genovese ma in realtà è un'interpretazione alla Ligure di quella che è una casa di ringhiera lombarda c'è il ristorante San Pietro di Mario Labò è una sorta di trasposizione di un progetto di Alvaralto la biblioteca di Vipuri che Mario Labò ben conosceva le cui caratteristiche moderne sono state riconosciute poi dalla critica storica e che in pratica viene riecheggiato se guardate le due scale dietro alla parete di vetro cemento l'identità è abbastanza forte d'altra parte sarà proprio Labò a pubblicare il primo libro in Italia su Alvaralto il regio automobile club di Nardi Greco si trova tra l'altro a dovere mediare tra il gigantismo degli edifici di Piazza della Vittoria e il resto l'altra scala ma come vedete tutti questi edifici hanno un loro linguaggio ed è un loro linguaggio proprio si parlava all'inizio di molte anime dalla modernità in questo caso si vede tra tutti quello che meglio incarna la caratteristica genovese di riprendere una sorta di duplicità e di riuscire a portarla alla sintesi è la casa del mutilato se voi guardate è composta da due parti ma sempre anche a seconda di dove la si guarda da un'immagine un po' diversa da una parte c'è la calma pacata della vittoria di Galletti dall'altro lo straziante espressionismo della statua di Baroni e l'architettura dell'edificio accompagna queste due anime stiamo parlando di un edificio la casa del mutilato che ha una forratissima carica emotiva e il progettista Fuselli riesce a dare anche nella stessa cromia un qualche cosa di cangiante se in effetti noi guardiamo l'edificio con condizioni di mezza luce le strisce bianche e nere sono un rimando all'architettura tradizionale genovese ma se lo guardiamo in piena luce ci si accorge che quello è il rosso di Levanto e che quindi vogliono essere un accenno sanguigno a quelli che sono stati le sofferenze della prima guerra mondiale terribile la statua di Baroni con il monco che indica una direzione a un cieco che non la può vedere e nonostante tutto i due vengono benedetti questo è un polo l'altro è dato dalla statua di Galletti se guardate anche l'edificio guardandolo a due punti di vista diversi riesce a cambiare è una sintesi perfetta estremamente emozionante gli edifici quindi riescono vi ho fatto vedere prima riescono a interpretare la cosiddetta buccia dello stile in maniera molto intelligente qua la casa del fascio di Sturla in pratica sembrerebbe un edificio le Corbusiano ma in realtà si trova agli antipodi di quello che è le Corbusier allo stesso modo perché si trova a fianco della collina e non in cima allo stesso modo l'edificio di Nardi Greco dovrebbe sotto avete una chiesa del 28 che ha questa forma perché si trova all'incrocio di due strade che si dipanano a freccia invece l'edificio di Nardi Greco si trova nelle vicinanze di quella che era una volta una torre difensiva e vuole prendere l'idea dell'ingranaggio per dare un'idea di quella che è la rivoluzione industriale dell'Italia si dice anche che sembra visto in pianta una M non a caso Nardi Greco capiterà in sorte che un suo edificio famosissimo che è la colonia Fara alla fine viene ad essere declinato da persone che forse non lo conoscevano in realtà l'edificio viene pubblicato internazionalmente ma sono gli architetti che lavorano al padiglione americano del 37 perché entrambi hanno la stessa idea fare vedere il fascio il fascio è anche il simbolo della Repubblica americana è il simbolo che Roosevelt vuole portare all'Expo di Parigi Angelo Crippa l'ospedale Gaslini se guardate i due plastici concentrandosi un attimo su quello che è l'ingresso vedete che anche in questo caso noi abbiamo due progetti molto diversi il primo con un'architettura tradizionale il secondo con un'architettura molto più moderna siamo quasi arrivati alla fine nel 1948 aprile viene inaugurato il Grattacielo pochi mesi dopo l'Italia si trova in guerra la vicenda del Grattacielo ne avevamo cominciato a parlare all'inizio è legata alla trasformazione del quartiere dei Lanaioli di Piazza Dante negli anni 30 si cominciano le demolizioni per poter far passare i tram la galleria è stata appena terminata viene proprio fatto un piano regolatore e quella che vedete è un acquerello di Aldo Riccardi che in pratica dovrebbe celebrare le conquiste del regime vedete come queste demolizioni non devono essere percepite all'epoca non vengono percepite come qualcosa di negativo ma come qualcosa di cui vantarsi basta pensare che soltanto vent'anni dopo nasce una canzone come Picunda Ghecianin per dire che l'idea è cambiata il grattacielo avevate visto prima il discorso sulla torre all'eternale Littorio è un argomento piuttosto spinoso per gli italiani ed è per questo che il terzo disegno che voi vedete è di Morozzo vedete come si mette a confronto la torre dell'orologio con l'Empire State Building ed è quasi un modo di tranquillizzare non arriva nemmeno al basamento dell'Empire non stiamo parlando di un edificio alto da parte sua Picasso in quegli anni pubblica un libro in italiano e in inglese e siamo in un momento in cui tanti stanno dicendo che bisogna usare soltanto la lingua italiana e in cui viene fatta l'apoteosi del grattacielo come simbolo dell'architettura moderna si fanno grattacieli in quel momento dappertutto questi sono esempi di un concorso berlinese questo è il più famoso concorso della storia dell'architettura al Chicago Tribune questo è quello che vediamo a sinistra è il progetto di Piacentini portato al concorso per il grattacielo del Chicago Tribune quindi vediamo che Piacentini in realtà ha già partecipato a un concorso per grattacieli in una situazione in cui i genovesi vogliono edifici alti perché permettono di sfruttare economicamente il centro esiste una sorta di diffidenza da parte delle alte sfere per via di una discussione che era legata alla situazione romana precedentemente descritta l'ufficio tecnico comunale arriva declinando in una maniera anche estremamente gradevole quello che è il nuovo progetto vedete tutte le automobili che sottolinano il fatto di noi sì sappiamo benissimo che per far vivere questi grattacieli bisogna far vivere anche il trasporto alla fine verrà però fuori qualche cosa di molto diverso in effetti quando vengono costruiti realmente gli edifici finiscono per avere uno un aspetto molto diverso l'uno dall'altro questo è di Aldo Zuccarelli Aldo Zuccarelli aveva collaborato con Crippa a Gaslini vedete che ha una curva come l'edificio a fianco e in realtà perché nel progetto originale qui doveva esserci una galleria che sfociava sotto la collina di Castello e sfondava una parte del centro storico cittadino da più o meno da San Donato fino a Santi Cosme e Damiano questo era nelle intenzioni generali non sia stato fatto ma vedete che la curva il linguaggio riprende molto Piacentini l'altro è il palazzo dell'Ina Gino Cipriani è stato collaboratore di Piacentini per quello che era il torrione di Brescia che veniva chiamato il primo grattacieli italiano anche in questo caso i due grattacieli stanno intorno a quella che è la torre principale l'edificio progettato da Crosa di Vergagni ha uno stile completamente diverso vedete che è basato su un ordine monumentale memore di quelle che erano le esperienze d'Eco e anche Bosar che abbiamo visto prima la torre di Rosso è un altro linguaggio ancora soprattutto queste quando nel Cavedio fa attraversare da Ponticelli e collegare i due corpi ricorda anche tanto il futurismo il linguaggio di Piacentini è invece estremamente newyorkese ma nell'insistere sulla decorazione a bande orizzontali vuole anche fare una sorta di omaggio alla città quindi quello che ne viene fuori si vede soprattutto nella foto centrale sono degli edifici che letteralmente sono in collisione l'uno con l'altro perché quanto se guardate anche il modo in cui sono orientati i Cavedi letteralmente sono tutti ruotati in maniera diversa l'edificio di Crosa di Vergagni sta in un angolo per conto suo l'esempio che ho fatto dei due Jovan e Schper all'Expo di Parigi è quello di due edifici contrapposti volontariamente per motivazioni ideologiche qui non c'è nessuna ideologia in realtà si tratta delle tensioni insite nella città che a un certo punto finiscono per esprimersi anche nell'architettura ed è curioso il fatto che i genovesi percepiscano Piazza Dante come una sorta di fatto unitario quando letteralmente formalmente non lo è al punto che poi l'architetto Giuseppe Rosso farà poi di causa a Piacentini ci sarà addirittura uno strascico legale per questioni di altezze quindi tutte queste tensioni nell'architettura vengono fuori concludiamo il 27 aprile 1945 arrivano gli alleati se zoomiamo su uno dei fotogrammi vediamo che la storia che si dice che i giorni in cui arrivano gli americani giravano i tram è vera e poche cose possono tradurre l'ossessione trasportistica dei genovesi come questa immagine alla fine tutti i discorsi che sono stati fatti da Renzo Picasso da Zappa e Viale quelli che abbiamo visto nei progetti sviluppati negli anni 30 hanno finito per fare veramente breccia nella mentalità dei genovesi che ricordano l'aprile 1945 veramente dicendo come prima cosa giravano i tram è però una città fondamentalmente divisa questo è un fotogramma cioè sono una serie di fotogrammi tratti dall'arrivo degli aiuti del piano Marshall se vedete il minutaggio sono girati a pochi secondi sono stati montati a pochi secondi di distanza l'uno dall'altro mentre parla l'ambasciatore americano una parte della città applaude e l'altra parte sta ostentatamente con le braccia concerte stiamo parlando del giugno 48 a un mese dopo ci sarà l'attentato a Togliatti e la città letteralmente esploderà ma volevo concludere con un edificio di Mario Labò Mario Labò ne abbiamo parlato prima si parlava del ristorante San Pietro in questo caso è il primo museo è il museo Chiossone è il primo museo costruito nell'Italia post bellica ma è anche qualcosa di più gli architetti hanno pagato un tributo abbastanza forte alla guerra si è parlato di Pagano il libro che avete visto prima su Alvaralto è stato scritto dal figlio di Labò che è stato fucilato dai tedeschi è morto partigiano anche il figlio di Crosa di Vergagni muore partigiano il figlio di Washington Sabatini che non se ne è potuto parlare logicamente per motivi di tempo ma è l'ingegnere imperiese che fa il mercato Andrea Doria beh probabilmente questo museo è anche una celebrazione della memoria di questi figli che non hanno potuto vedere l'Italia che ci sarebbe stata dopo e anche un modo per tenere viva l'idea di una città che abbiamo visto col tempo ha continuato a chiudersi sempre di più in se stessa ci sono meno ci sono meno rapporti internazionali c'è sempre più un'importanza decisioni etero dirette ma si ricorda ancora del periodo ottimista in cui un genovese poteva andare in Giappone e diventare il beniamino delle classi dominanti del Giappone di Erameiji al punto da poter tornare a casa con la più grande collezione di arte giapponese che si possa trovare al di fuori del paese del sollevante questo è una memoria della Genova dagli orizzonti aperti che in un modo o nell'altro sopravvive nonostante la città divisa che abbiamo visto prima nella prossima nel prossimo intervento avremo a che fare con la Genova razionalista sarà Francesco Rosadini che vi parlerà di come si evolve a partire da una figura di cui abbiamo parlato molto poco questa volta che è Luigi Carlo Daneri e come si evolverà a cavallo della seconda guerra mondiale e anche nel dopoguerra la città di Genova vi ringrazio per la vostra pazienza naturalmente se ci sono domande questioni o curiosità sono a disposizione grazie a tutti e grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti